Gionborno, Gionborno, Gionborno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti, ormai lo sapete, ormai lo sapete benissimo che insomma in questo periodo questo video esce sempre, però prima, prima di iniziare, prima di fare qualunque cosa vi dico una cosa importantissima, se volete che io domani vi porti il pronostico invece, non la simulazione questa che vedete, ma il pronostico della UEFA Champions League, vi invito a lasciare tantissimi mi piace qui sotto in questo momento una marea di mi piace e vi invito anche se non l'avete già fatto ad iscrivervi al canale, mi raccomando supportatemi iscrivendovi al canale perché per me è molto importante che voi lo facciate, inoltre fatemi sapere con un commento qua sotto secondo voi chi vincerà la UEFA Champions League, io per non sapere né leggere né scrivere dico Manchester United sparando completamente a caso nonostante la brutta stagione che sta facendo finora il Manchester United, come funzionerà questa simulazione? semplicemente a cavo da guts, cioè completamente a caso, come potete vedere io qua già scrivo quarti di finale, ovviamente non sappiamo ancora chi va ai quarti di finale, non possiamo saperlo perché ovviamente ci sono prima gli ottavi di finale, a cosa serve questo video? Ve lo dico subito, è una beata mingha, non serve a niente questo video, ma veramente a niente, semplicemente mi andava di farlo e ho deciso di farlo e quindi lo faccio. Detto questo, andiamo a dare un'occhiata appunto alla situazione, quindi partiamo dal Salisburgo Bayern Monaco, sostanzialmente le squadre che sono arrivate prima nel girone possono fare da 0 a 4 gol, le squadre che sono arrivate seconde possono fare da 0 a 3 gol, ma di base oltre questo non cambia veramente nulla, quindi il Salisburgo può fare da 0 a 3 gol, ne fa 3, attenzione il Bayern ne fa 2, quindi l'andata in Austria finisce 3 a 2, questa è una simulazione per vedere appunto con un sistema, con una situazione molto fantasiosa, chi vince la UEFA Champions League in simulazione completamente random. Siviglia, Bayern Monaco finisce 3 a 2, la facciamo ogni anno, Sporting, Manchester City, lo Sporting può farne 3 e ne fa 3, niente ragazzi, City ne fa 1, quindi altro risultato a grande sorpresa, lo Sporting batte il City 3 a 1, mi raccomando se domani volete il pronostico tantissimo, mi piace, Sporting, Manchester City 3 a 1, Benfica Ajax, teniamo lo stesso modus operandi, ma più o meno le squadre sono uguali, finisce 1 a 1, Benfica Ajax, quindi molto scopriremo nella partita di ritorno. Chelsea contro Lille, il Chelsea ne può fare 3, attenzione perché il Chelsea è passato secondo e ne fa 2, il Lille ne può fare 4 e ne fa 1, quindi il Chelsea vince 2 a 1 contro il Lille il match d'andata a Stamford Bridge. Atletico Madrid che è passato secondo contro il Manchester United che è passato primo, l'Atletico Madrid fa 2 gol su 3, il Manchester United ne fa sempre 2, quindi è un pareggio 2 a 2 che più o meno, possiamo dire più o meno, va bene a tutti, perché comunque è un risultato che sorride a entrambe, quest'anno non c'è più la differenza a reti, si fa sempre calci di rigore in caso di parità. Poi procediamo, procediamo spediti. Qui c'è Villarreal e Juventus, attenzione perché c'è la prima italiana. Villarreal ne può fare 3 e ne fa 0, la Juventus ne può fare 4 e ne fa 1, vittoria importantissima in Spagna. Ovviamente che ve lo dico a fare? Se vedo che questo video vi piace posso provare a farlo anche di Europa League e Conference, visto che questa non l'Europa League è una mini Champions League, visto che c'è l'Atalanta, il Napoli, la Lazio, c'è Napoli-Barza, Lazio-Porto, Atalanta-Olimpicos, insomma potrei fare questo. Inter-Liverpool, l'Inter ne può fare da 0 a 3 e ne fa 2, il Liverpool ne può fare 4 e ne fa 3, quindi a Milano vince il Liverpool 2 a 3 e non sarebbe un risultato super sorridente, super positivo, però comunque l'Inter sta vendendo cara alla pelle. Paris Saint-Germain-Real Madrid, il Paris ne fa 0, il Real ne fa 0, quindi risultato davvero piatto, finisce 0 a 0. C'è il ritorno, Bayern-Monaco-Salisburgo, vediamo qual è la prima squadra ad andare quarta di finale, il primo numero che esce è quello del Bayern-Monaco, il secondo è quello del Salisburgo, poi ve li farò vedere a specchio ovviamente qui perché non ho riscritto tutti gli accoglamenti al contrario, però adesso è il Bayern, quindi Bayern da 0 a 4 ne fa 3, Salisburgo da 0 a 3 ne fa 3, clamoroso, clamoroso, finisce 3 a 3 ragazzi, 3 a 3, il Salisburgo ha proprio una grandissima sorpresa, elimina il Bayern-Monaco ed è la prima squadra ad andare quarti di finale. Manchester City-Sporting, il Manchester City da 0 a 4 ne fa 3, lo Sporting da 0 a 3 ne fa 3, vabbè ma che cazzo è buggato dai, è buggato, nuovamente 3 a 3, anche il City ha eliminato, lo Sporting va avanti, nonostante avesse due volte la defezione di essere la squadra più scarsa, niente da fare. Benfica-Ajax, Benfica che da 0 a 4 ne fa 3, ma se l'Ajax ne rifà 3 ne cazzo, 2, è meno questo, quindi finisce 2 a 3 per l'Ajax e quindi ragazzi miei l'Ajax passa eliminando il Benfica. Chelsea-Lille, anzi Lille-Celsie-Lille da 0 a 3 ne fa 1, no, ho sbagliato scusatemi, ne può fare 4 il Lille, da 0 a 4 ne fa 4, il Chelsea è praticamente fuori, il Chelsea ne fa 2, quindi finisce 2 a 4 per il Lille, stiamo vedendo probabilmente la Champions League più clamorosa mai fatta, il Lille va avanti insieme a Salisburgo, guardate, ve faccio vedere, ve faccio vedere ragazzi, oh cazzo, Salisburgo, Sporting Lisbon, Ajax e Lille, ma che cazzo di Champions sarebbe questa? dico io, scusate ma quando ce l'ho, ce l'ho, allora facciamo una cosa, facciamo una cosa per gli amici a casa, mettiamole una in fila in un'altra, quindi l'Ajax lo sposto dietro e gli metto la virgola, qui faccio la stessa cosa, cerchio, virgola, spazio, queste qua appunto sono le prime 4 squadre che vanno ai quarti di finale, boh vabbè, se voi dite che è così, facciamo finta che sia così, a questo punto Manchester United, Atletico Madrid, lo United ne può fare, no ho sbagliato di nuovo, lo United ne può fare 4 e ne fa 3, dall'altra parte 3, quindi 3 a 3 si va ai tempi supplementari da 0 a 1, facciamo così, lo United segna contro l'Atletico e i supplementari? No, e l'Atletico? Sì, quindi DTS dopo i tempi supplementari è 4 a 3, non so perché stanno uscendo tutti questi risultati clamorosi, e non so perché stanno uscendo tutti questi 3 a 3, l'Atletico Madrid va avanti, attenzione adesso la Juve, ne può fare 4 e ne fa 0, occhio, il Villarreal ne fa 3, e quindi clamoroso quello che succede, il Villarreal è lì, ma che cazzo di Champions League è questa ragazzi, ma che Champions League è? Il Villarreal elimina la Juventus, Inter-Liverpool, anzi Liverpool-Inter, il Liverpool ne fa 2, l'Inter ne fa 1, quindi Liverpool vince anche al ritorno, va avanti ed è forse la prima, diciamo insieme all'Atletico Madrid, una delle primissime big ad andare avanti, ed ad andare ai quarti di finale, ci sarà un'altra perché c'è PSG, anzi Real Madrid-PSG, il Real su 4 ne fa 2, il PSG ne fa 0, quindi va avanti il Real Madrid e raggiunge nell'otto delle squadre presenti ai quarti di finale, Salzburg, Sporting, Ajax, Lille, Atletico Madrid, Villarreal, Liverpool e il Real Madrid. Allora, allora facciamo così perché in grafica poi probabilmente non si vedrà, quindi facciamo così, ok adesso dovreste vederle più o meno, anzi facciamo così, mettiamo a capo dall'Atletico Madrid, ok adesso in grafica dovreste, che nervi, che nervi, che nervi, dovreste vederle tutte, perfetto. Allora, facciamo così allora, da 0 a, anzi da 1 a 8, adesso facciamo anche il sorteggio in diretta, sorteggio in diretta da 1 a 8, la 2, quindi Sporting Lisbona, la andiamo a cancellare e la scriviamo direttamente, a questo punto da 1 a 7, 4, 1, 2, 3, 4, Sporting Lisbona, Atletico Madrid, poi, poi, procediamo spediti, da 1 a 6 esce la 3, che è il Lille, che non so perché sta vivendo il clamoroso sogno magico per vincere la Champions, da 1 a 5 è la 4, quindi Liverpool, quindi Lille-Liverpool, Lille-Liverpool è il secondo quarto di finale, tra l'altro si stanno accoppiando in modo che se poi vincono le favorite escono pure delle semifinali decenti, da 1 a 4 è l'Ajax, che l'andiamo a scrivere subito, che insomma per la seconda volta negli ultimi anni sogna di poter accedere in semifinale, altra grande stagione quindi dell'Ajax, da 1 a 3, 2, quindi Ajax e Villareal, una tra l'Ajax e il Villareal farà appunto la semifinale, poi vediamo solamente chi gioca la prima in casa, 2 quindi il Real Madrid, Salisburgo per la precisione, quindi diciamo che sulla carta al Real Madrid è andata meglio possibile, però anche Sporting Atletico, Lille-Liverpool, Ajax e Villareal. Allora, per trovare, ovviamente le sorprese ci possono tranquillamente stare, però per trovare una certa continuità e per dare una credibilità a quello che stiamo vedendo, ci saranno ovviamente delle fasce, quindi cosa voglio dire con questo? Che lo Sporting da 0 a 4 avrà 3, 0-3, mentre l'Atletico avrà 0-4. Lille-Liverpool, il Lille avrà 0-2 e il Liverpool avrà 0-4. L'Ajax e il Villareal avranno entrambe 0-4. Real Madrid e Salisburgo, il Real Madrid avrà 0-4, mentre il Salisburgo 0-2, perché Lille e Salisburgo possono anche passare, però ovviamente devono fare il miracolo per passare. Nel frattempo qui ci segniamo le semifinaliste. Allora, Sporting Atletico Madrid. Iniziamo quindi con lo Sporting, come vi dicevo, farne da 0 a 3 e ne fa 0, mentre l'Atletico da 0 a 4 ne fa 4, quindi brutto da dire, ma è così, già scriviamo Atletico Madrid perché al ritorno lo Sporting al massimo ne potrà comunque fare 3 e quindi l'Atletico è la prima semifinalista di questa competizione. Lille-Liverpool, vi dicevo, il Lille ne può fare al massimo 2 e ne fa 0. Il Liverpool ne può fare 4 e ne fa 1, quindi il Liverpool vince di misura, ma non è ancora qualificato. Ajax, Villareal, entrambi possono farne 4 e finisce 4-3. Quindi gara spettacolare che va all'Ajax con una partita davvero clamorosa. Concludiamo con il Real Madrid-Salisburgo, il Real Madrid su 4 ne fa 3, il Salisburgo su 2 ne fa 1, quindi finisce 3-1, il Salisburgo può ancora passare, però il Real Madrid ha messo una bella fetta. Continuiamo con il ritorno, quindi Atletico e Sporting. L'Atletico da 0 a 4 ne fa 2, lo Sporting da 0 a 3 ne fa 2, finisce 2 a 2 al Wanda metropolitano, ma l'Atletico è passato. Lille, anzi Liverpool contro Lille, il Liverpool da 0-4 ne fa 2, il Lille da 0-2 ne fa 1, quindi vince ancora il Liverpool, vince andata e ritorno e quindi il Liverpool è la seconda semifinalista. Da 0 a 4 entrambi per Villareal-Ajax, 2 a 0 per il Villareal che rigira clamorosamente il risultato d'andata e quindi il Villareal raggiunge l'Atletico Madrid e il Liverpool in semifinale ed è la terza semifinalista. Attenzione perché qui siamo molto vicini a una cosa secondo me abbastanza clamorosa, ve la faccio vedere, da 0 a 2 Salisburgo ne fa 0, il Real Madrid, anzi ho sbagliato, da 0 a 3 ho messo, vabbè da 0 a 4 ne fa 4, quindi 4 a 0 per il Real Madrid. Le semifinali non sono delle sorpresissime, ma la cosa sorprendente è che leggendo le semifinaliste noterete che 3 su 4 sono spagnole, quindi c'è grandissima possibilità che una spagnola porti a casa questo trofeo Atletico, Liverpool, Villareal e Real Madrid. Andiamo dunque al dunque. Da 1 a 4, la prima semifinale è, la prima squadra che esce dall'urna è il Liverpool, quindi Liverpool che affronta, avremo già adesso che clicco gli accoppiamenti, da 1 a 3, quindi 1, Atletico, Liverpool Atletico. Attenzione, quindi al Real va ancora bene, però da qui spariscono anche appunto i favoritismi e Villareal, Real Madrid. Ecco qua le semifinali di questa competizione stellare, quindi la Champions League, le semifinali sono Liverpool, Atletico Madrid e Villareal, Real Madrid. Partiamo da questo presupposto qua, partiamo da questo importante punto. Ma che cazzo, mi sono cagato sotto. Allora, andiamo a vedere quello che succede quindi. Quindi sostanzialmente che cosa accade? Accade che entrambe possono fare da 0 a 4 gol. Liverpool che ne fa 0, Atletico Madrid che ne fa 2, quindi l'Atletico vince in casa del Liverpool e porta a casa, no, 3 punti importanti, avrò detto sicuramente 10 volte 3 punti importanti, perché lo dico sempre, ma non è così, porta a casa una vittoria formidabile. Andiamo dall'altra parte, finisce 1 a 2, Villareal, Real Madrid. Ora, siamo vicinissimi alla finale, alla finalissima siamo vicinissimi. Se posso essere sincero, anche pochi risultati in cui abbiamo visto supplementari o cose del genere. Atletico Madrid, Liverpool, Atletico 1, Liverpool 4. Clamoroso, clamoroso ribaltone il Liverpool, ragazzi. Il Liverpool è la prima finalista, torna in finale e ha la possibilità di vincere la UEFA Champions League dopo averla vinta in finale contro il Tottenham, ma vediamo chi affronta. È molto probabile che sia Real Madrid, Real 4 e Villareal 0 a Madrid. Finisce 4 a 0 per il Real Madrid. E allora, la finale sarà questa. La finale sarà Liverpool-Real Madrid. Io ve la ingrandisco a caratteri cubitali. Eccola qua, la vedete che è... No, non ve la ingrandisco. Facciamo così, facciamo che ve la ingrandisco, ma che ve la metto qua sotto, perché sennò non si può vedere. Liverpool-Real Madrid è la finalissima della competizione. E a questo punto un po' di hype, un po' di hype, fate un po' di hype cortesemente, fate un po' di hype. Ancora di più, un po' più di hype, poco poco hype. Siete pronti? Andiamo a vedere. Da 0 a 4 entrambe. Liverpool 4, Real Madrid 3. Sì, vabbè. La finale più clamorosa e bella della storia. Porta la UEFA Champions League, la Sikwolf Champions League, perché sostanzialmente questo è la simulazione annuale. La porta in mano al Liverpool. Il Liverpool è campione d'Europa, battendo in finale il Real Madrid 4 a 3, ma soprattutto facendo un percorso che permette a Liverpool di eliminare l'Inter vincendo entrambe le gare. Il Lille vincendo entrambe le gare. L'Atletico Madrid, perdendo l'andata 2 a 0 in casa, ma vincendo da loro 1 a 4. E poi in finale, in una partita clamorosa, vincendo 4 a 3 contro il Real Madrid. Questa è la simulazione, la mia simulazione della Champions League 2021-2022. Io vi dico che se fate i bravi e lasciate tantissimi mi piace, domani potrei portarti, ad esempio, visto che domani c'è la Champions, il mio pronostico di tutte le partite della Champions, eccetera, fino magari anche alla finale, insomma, capiremo insieme. E poi, se questo video vi piace, se avete un grande interessamento, quindi un exploit clamoroso, ma potrebbe essere un exploit, magari domani o dopodomani, che quindi dopodomani è ancora mercoledì, vi potrei portare questo di Champions e Conference nello stesso video, che è un video un po' particolare, però, insomma, secondo me potrebbe essere interessante e divertente da guardare. Detto questo, regà, siamo giunti alla fine. Fatemi sapere la vostra con un commento qua sotto, iscrivetevi al canale. Io vi ringrazio per aver visto il studio, tantissimi mi piace e buon shalala allene come sempre. Ci vediamo in un prossimo video!